Se ne parla da tanto a Rimini, ma le cose adesso si stanno facendo. Non voglio ricordare gli interventi sul sistema di risanamento ambientale, delle fogne, i grandi motori culturali, la viabilità. Qui siamo davvero in qualcosa che rimarrà per sempre. Noi siamo una città che vive di turismo, deve riqualificare la propria offerta turistica, ma deve ridare anche senso alla propria comunità, luoghi di appartenenza. Allora è bene costruire emozioni che attraggono episodi, eventi, arte, musica, spettacolo, ma noi stiamo investendo per far rimanere, lasciare per sempre qualcosa che avrà senso per sempre. Per questo stiamo intervenendo sulle infrastrutture, sull'hardware, sui segni che rimarranno a Rimini per sempre. Allora qui siamo in un grande quadrante. Guardate, questo intervento, la Casa del Cinema, il Fulgor, dedicata a Federico Fellini, sarà un unicum nel mondo. È un cantiere che sta andando avanti, la data, vogliamo incrociare le dita, ma noi ci auguriamo, se tutto va bene, a marzo 2016 di avere il primo grande momento, la prima grande proiezione filmica dedicata a Federico Fellini, il primo film. Ma quello che noi facciamo per Fellini non è un museo statico, non è una mummificazione di un'eredità. Stiamo investendo sui luoghi della città, lo abbiamo fatto in questi anni, incrociando le emozioni, gli eventi, ma con l'hardware, con i cantieri che rimarranno. Nel 2013 il Fellini anno. Stiamo intervenendo sugli argini di Rivabella con delle suggestioni poetiche, degli interventi artistici, delle sculture che hanno una visione fellinesca, che sono ispirati a Tonino Guerra, agli sguardi e ai sogni di Fellini. Fellini, come dire, integrato nel rapporto con la città, un Fellini diffuso, un Fellini dei luoghi, della poetica. Quindi non un museo, ma rimini un luogo fellinesco. Ecco che questo luogo, questa città che riprende Fellini fino in fondo, lo vive 365 giorni all'anno e lo restituisce 365 giorni all'anno. Un luogo, dei luoghi dedicati a Fellini che avranno come dire come epicentro la casa del cinema, il Fulgor. Qui vedete, incrociamo le dita, la prima proiezione nel 2016, gli scavi archeologici. Che storia stupenda che è quella della nostra città. Qui andiamo dal periodo romano al Medioevo, al Settecento, all'Ottocento. Gli scavi proseguono anche a mano, con i raschini a mano. E questo è un intervento complesso, perché tutela, valorizza e segna gli interventi tecnologici, le fibre di carbonio per l'antisismica, con i reperti che abbiamo trovato, con i mosaici. Ci saranno sale di proiezione, ci sarà un centro di documentazione, nel quale tutti quelli che vorranno studiare Fellini potranno venire nel mondo. Degli archivi, la custodia e la valorizzazione di alcune opere. Però questo è solo uno dei luoghi che Fellini avrà e che Rimini avrà da dare al mondo. Perché qui siamo in un quadrante bellissimo. Giratevi e qui, questa è la nostra città, avremo un quadrante della cultura e delle arti che poche città potranno avere. Noi vogliamo entrare e saremo nel rango delle grandi città d'arte italiane. Ce la giocheremo, non è un sogno provinciale, ma ce la giochiamo perché abbiamo delle carte da giocarci con Venezia e con Firenze, perché basta voltare lo sguardo. Abbiamo il rinascimento di Sigismondo Pandolfo Malatesta, di Piero della Francesca, il teatro inaugurato da una primaverdiana, Galli, che è un altro cantiere. Tra il teatro e il castello Malatesto, un'arena dedicata alle arti. Dietro la nuova, come dire, giardino del Palazzo del Comune e poi qui di fianco Piazzetta San Martino e Fellini. In un quadrante di 100 metri il Rinascimento italiano, l'Ottocento di Verdi, il Medioevo italiano e Fellini eterno nel mondo. Questo è Rimini, questo insieme di proposte che anche qui non è un'ambizione di provincia, ci permetterà di entrare nel grande giro delle città d'arte. Rimini sta investendo in modo strutturale per fermare e fare per sempre qualcosa che rimarrà per sempre. L'ambizione è quella nei prossimi anni di aumentare, perché no, di 500.000 presenze, magari di arrivi stranieri grazie a questo quadrante. A Piero della Francesca insieme a Fellini, a Verdi insieme a Fellini. Fellini parte la Via Emilia, il ponte di Tiberio, insieme alla Ferrari, che offriremo magari ai turisti cinesi, perché non sapendo neanche bene dov'è l'Italia, toccare la Ferrari e sognare con Fellini è un viaggio di un'ora e mezzo, due ore. Questa è la nostra città. Lo avevamo detto, lo stiamo facendo e ti vengono anche i brividi, perché finalmente, come dire, la logica di passare dal consumo del territorio, dai motori immobiliari, dal cemento ai motori culturali, è quel seme che darà futuro migliore alle giovani generazioni, darà lavoro. Questa qui è una fabbrica, non ci sono più, come dire, fabbriche di rullini per scattare le fotografie, ci saranno fabbriche legate all'arte, alla cultura, ai tanti che verranno. Se ci dobbiamo, e ce lo dovremo porre, l'obiettivo di aumentare persino di 500.000 le presenze, grazie a questo quadrante, Piazza Malatesta, il Castello, il Teatro e Fellini, 500.000 le presenze in più daranno davvero centinaia e migliaia di posti di lavoro in più. Attraverso l'arte, la cultura, la nostra identità, ciò che il mondo chiede all'Italia, noi offriremo lavoro ai giovani.